Salve a tutti ragazzi e benvenuti da cima in questo nuovo video di Gears of War Vi riasco RIPPARATEMI Ci mi preparo subito, va che è meglio Scusi, potrei prendere un po' di botte Molto gentilo Non sparate se non vedete nessuno, dai, porta, fatti i bravi Porca che botta Capito Porca banca, attenzione alle catene Ok, ormai è ufficiale, tutto quello che ci circonda ci vuole morti Eh beh, insomma sì Un pochino, eh, neanche pelo Dove siete? Alzati un attico Ok, si è alzato lui Ma quanti cazzo di colpi ci vogliono, ragazzi? Ce ne vogliono tanti per ammazzarli, eh Mamma mia Ok, andata Altri? Evidentemente sì E adesso prenderli Oh, che bello Va bene Ce la facciamo? Qui Ok Ok, carico Vai, vai Dove vai? Eh, ma adesso questi si alzano, a un certo punto Ok Vai L'ho preso tre volte, dai, ragazzi Tre volte Ma sì Ho un drone Ok Eh Ma cosa sperate che c'è la catena? La veri, dai, insomma Sono morti E attenti a dove mettete i piedi Lo... me lo ricorderò, sai Caro amico Allora, vediamo un po' Questo mi interessa Questo mi interessa Ottimo Munizioni E adesso me la devo correre di brutto, vero? Volete che non mi faccia prendere... Sono fatta Mamma mia che angoscia Si è alzato tutto? Eh Volevo prendere questo, eh Perché lo sapevo che C'era qualcosa Ok, dai, non è tanto 210 Non siamo al massimo Ok, qui è caduto Quindi posso prenderlo? Ah Posso Scusate ma sapete che Ne ha così poche munizioni Quest'arma Mi spiegavi in mente, eh Però Ce ne ha così poche Che volevo prenderle Allora Dove devo andare? Dice di qua Quindi andrei un attimo di qua A vedere quale Esattamente c'è di marma Eh Questo Sì Buono Fino un certo punto O salve Ok Eh Vabbè Intanto anche l'espolazione paga, eh Meno male Perché se no mi preoccupavo Eccoci qua Vai Apri tutto Bene Di bene in meglio Eh In effetti Non è malo La cosa Maia Bastardo Ehm Va bene Ok 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 Ti ho preso un sacco di volte Ragazzi Guardate lì quanto li prendo Prendo tante volte Eppure ancora lì Piede che mi sorride Eh Scusate ho fatto la cacata Non so dove mettermi Effettivamente Però Sì Ecco qui Mi ricordo negli altri capitoli Che si potevano aiutare Tra di loro Invece qui A quanto pare Una volta che sono giù Sono giù Meglio così Perché se no S'era Un cazzo di casino Ok Eh Porca vacca Capito Ok Muoreci Muoreci Ok Pronto all'azione Oddio Siete qui Guarda un altro Sion Madonna Quanti sono Porca vacca Ma sono tanti Ma mi prende per il culo Stanno diventando più forti Ma cazzo Ma fanno i balletti Fanno Ok Sì C'è uno dei forti Ragazzi Lo so Ma Finché non lo vedo Ok Cazzarola Ok Vai Sarei anche diventato più forte Però comunque Il colpo mi prende Ok Questo è andato Questo fu così Questo così Ecco il più forte Bella cosa No 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 Dove sei? Qua Togli dei maroni Te Accidenti Oh Dove lanci? Adesso qui un po' Lo prendiamo Ok Ok Sono venito Venite qui Domani Ok Che cazzo ci fai te qui Marcus Ok Olè Fatta Mamma mia ragazzi Vediamo se riusciamo a farcela Chi c'è ancora? Bene Munizioni Eh Eh Sì Ok Andata Distrutto anche l'ultimo Ok Troviamo una via d'uscita Perfetto Oh Adesso l'ho contento Dai Continuiamo a salire È positivo no? Eh Saliamo ok Arriveremo in cima al costo della vita Ehi Hai capito che voglio dire Sì Ho capito E saranno cazzi da cacare Vero? Proprio amari Perché questi qua Sono stati qua Tutto il tempo Aspettare noi Che arrivassimo Dopo anni e anni Quindi sì Sono Un po' scocciati Vediamo se c'è qualcosa qui Non c'è un cazzo di niente Quindi dobbiamo andare avanti Dobbiamo andare di là Quindi dobbiamo fermare un'altra volta Il Coso La cosa Il coso Come l'impressione che qui arrivi Tanta gente Sì Devo andare lì in effetti Probabilmente Devo passare qua Quindi Quindi vedo qualcosa laggiù Munizioni Pare che dobbiamo uscire un'altra volta Già Allo sto appunto Le prendo Ah Non posso prenderle Non ci devo caricare Sì Perfetto E le prendiamo Grande Munizioni Anche qua E le prendo qua Tanto ragazzi Una doppia serratura Quindi ci sono due interruttori Quello non me la carica A quanto pare Maledizione Ok Oh siamo all'aperto Più o meno Diciamo che si Si vede un po' di aperto E quindi Ah e quindi si parte Oh va bene Mi sta bene E adesso Sfondo Al fondo Sfondo Cazzo Ma non lo vedi Come non detto Già Ehi Se usassimo la turbina E in che modo Sentiamo Saltandoci sopra Sarà come arrampicarsi sugli alberi da piccoli Ah no Io non lo faccio Guarda Guarda Opla Eh facile Bastano cadere Eh tesche sei un fringuello Hai visto? È facile Eh certo Tu pesivi 30 kg Sì no Loro con tutta l'arma Tutto il resto Ok Non centinaia di chili Ok Andiamo Roba da pazzi Già È una ragazza interessante Oh Marta Indietro Indietro Papà vai Ok Cazzo Proprio l'ultimo secondo Perfetto Ci abbiamo fatto Ovviamente Andate Vi raggiungiamo Era ovvio Che ci separassimo Va bene Ragazza interessante Va bene papà Utilizziamo queste scale Perfetto Presumo di qua Hai altri assi Nascosti nella manica? Non in questo momento No Bene Ok Andiamo pure Stiamo salendo tantissimo Mai siamo arrivati Oh merda Sono anche quassù Eh figuriamoci Non per molto Distruggiamoli Figuriamoci Perché non dovrebbero essere Scusate Ok Intelligente come pochi Ah questi saranno già da soli Se saltate fuori Bravo Dai ci siamo quasi Sì sì Ci siamo quasi Guardate Perfetto Oh Cazzo Ma quanti cazzo Di scariche Devo tirargli Per ucciderli Sti cosi Non c'è più quello Quello di là Ok Ah il torque Gli si Ritorso contro Due scariche Ce li ho Ok Bene Quindi siamo Ah dobbiamo anche aiutarti Adesso ci aiuti Aiuti Ti preoccupare Tac Tac E tac E questo è andato Quanto mi dispiace Allora Ti do una mano Ecco qua Ecco qua Non è che gli ho dato Una mano molto grossa Tornatene nel tuo nido Ok Chi è che mi sta sparando Non capisco E uno qua Non va fanculo va Sei ancora qui Sei ancora qui Ok Dovremmo averli aiutati E adesso questi Come lo uccidiamo Ovviamente viene da me Occhio Occhio Ti metti davanti Occhio Io non so la gente Sono ferita Sbrigati Sì sì Adesso arriviamo Non ti preoccupare Sto arrivando E poi clicco a farla Dalla distanza No Che ce l'ha presa lei Ok Andata Grazie Spero proprio Che non succeda mai più Eh spero che io Vada È una brutta situazione Quella Spero solo io Sto sparando Ah sì Porca miseria No 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 Non venire da me Che non mi piaci Ok Ehi qualcuno viene a prendermi Eh ovviamente Sì sì Ti vedo Sì mi vedi Ma questo è arrivato da me Porca di quella porca Ha acchiappato qualcuno Che idioti che sono Questi qua Veramente Dai Alleluia Grazie Per un pelo Vediamo un po' Se riusciamo Capito A far qualcosa Vediamo un po' Cioè ma veramente Questi mob Sono troppo esagerati Non puoi tirargli 800 miliardi Di cose Trappole Dai Non è possibile Arrivare Alleluia Cazzo ragazzi Quanto su Gli ha tirato Ora vanno Più sono grossi E prima si afflossano Sì Va bene Facciamo fin da che ragione Non avevo mai capito Il senso di queste parole Entriamo in questo tubo Sì Un secondo Anche vi devo riprendere Da sto schifo Finalmente siamo quasi arrivati in cima E poi scopriremo che cosa ci aspetta Giusto? Sì Qualcosa del genere Purtroppo nell'1 Era tutto un altro gioco Veramente bellissimo Anche il 2 Il 3 Il judgment Il 4 L'hanno sconvolto Rivoluzionato E Schiccio Proprio Ridotto una merda Diciamoci la verità E quindi Vabbè Mi spiace Che abbiano fatto Lavoro così Dotto Andiamo un po' Ok E ci siamo Ottico Adesso vediamo Cosa ci aspetta Eh Altro scuocco rame E come saliamo Che c'è lo scuocco rame Sai le scivolate Che ti fai Mamma mia Andiamo un po' Adesso dobbiamo salire Ovviamente Perché tanto è così Ok Sali Perfetto Ok Ottico Mamma mia Qui c'è qualcosa Non c'è un cazzo di niente Guardate Niente sciame Gia 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 Guarda faccio rompiballe E dico Non credo proprio Ho imparato una cosa Combattendo le locuste Il fatto che non le vedi Non significa che non ci siano Eh Spreghiamoci ad arrivare in cima Ok Come ci arrivo adesso in cima C'è un buco C'è un buco che mi fa cadere Eh Devo andare proprio da giù Purtroppo non c'è altra scelta Qui c'è un po' di acqua Non c'è un cazzo Andiamo qua Questa non si apre Qui ci saranno Tante tante belle persone Che ci stanno aspettando Ho lavato il monitor Finalmente La via giusta per arrivare in cima Andiamo Ho lavato il monitor Almeno adesso vedi i colori Così siamo a posto anche questi Ti ho preso la barra spazio Così va da solo Va bene Perfetto Un cutscene Siccome ce ne sono poche Cosa c'è Del Non guardare giù Non lo farò Guarda le tre gambe a lei Allora Che meglio Sul serio È meglio se non guardi Ok Non è che in realtà Tu vuoi che io guardi giù Forza Ci siamo quasi Cazzo Oh porca vacca Eh Oh porca vacca Oh porca vacca Sì Il concetto è chiaro No È come cazzo Li butti giù quelli Fanculo Andiamo giù e basta Eh certo C'è un altro modo di farlo Cioè cercando aiuto Lei non può aspettare Ehi Se non fermiamo queste cose Allora moriranno tutti Nel raggio di mille miglia Non solo tua madre Quasi tutte le persone Delle quali mi importa Sono già morte Te lo ricordi? Sì Me lo ricordo No Non credo a quello che sto per dire Papà Hai modo di chiamarlo? Non da qui Se facessimo da lì Chiarichi Può funzionare Andiamo prima che l'eruzione Divento peggiori Se il tuo amico Non può aiutarci Tornerò qui Anche sulla Se necessario Ma cosa vuoi fare? Se lui non può aiutarci Allora noi saremo Al tuo fianco Cioè non è possibile Già con uno In quattro Siamo quasi morti Ce ne saranno una ventina Se non di più Scherziamo Ora dobbiamo sfuggire A un'eruzione di vento Se passiamo la diga Ci salviamo dallo stormwall Eh Quindi dobbiamo correre Fammi capire Gioco Perché Andiamo Muoviamoci Che dovessimo correre Invece poi alla fine Non mi hanno dovuto correre Per un cazzo Vabbè Andiamo un po' Di qua Perfettico Ok Via di corsa Mi fa un po' stare Ma male Ma molto molto male Non fermatevi Dio se riuscivo a parlare Dicevo mi fa un po' male Non Spostiamoci da una testa all'altra Vaffanculo Non poter usare Marcus Dicevo Ci sono dei droni Ce ne sono altri più avanti Ah c'è il vento E quindi Viene influenzato Da quella parte Sion Non conviene Però forse posso Dai togli sta arma di merda Idiota Crione che ti ho finito Stola Non è a terra Non fermatevi Eh ragazzi Mi tocca Andare di far potenza di violenza Li sta rendendo più forti Ok Via Tero di trovare dopo le mutazioni ragazzi Perché sennò anche siano Bene Ok Dai muorici Dobbiamo continuare Eh lo so ragazzi Ma dove cazzo vado Ci sono questi qua qui Eh Continuo Adesso che abbiamo Attraverso Oppressione in corso Ok Vai Vediamo un po' Sembra che Qualcuno ha un segno eh Non è che si sperdono Il prossimo Ok Vai Punto all'azione Un drone morto Allè ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ci credo Porca miseria Non è che c'è un po' di munizioni Perché Mi vado in merda qua Possiamo andare? C'è qualcun altro? No In teoria no Tutti quanti a posto Aspettate va Che c'è un po' di munizioni Tu sembra Deficiente Ok Vado un attimo qua Perché ecco Infatti dicevo Magari ci sono delle munizioni Ottimo Munizioni Eh Ci servivano eh Non sono tante Però Meglio di niente Insomma Allora Il mulcher C'è Il granata Non lo vedo Ah ma sei qui Beccati questo Ok Oh cazzo È un drone elite Cazzo No 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 Aspettate un secondico Vai Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa qui Ok Vai Guarda e impara Ok Non vedo altri Tieni fuori Occhio dove miri Sì però sei sempre tra i coglioni ragazzo Dove spari? Oh Ok Morto Quasi Bene Oddio Si l'ho dato Vediamo cosa c'è qui No questo La controca Te lo tieni Ok possiamo andare Andiamo Di corsa Scusate che io qui ho poche munizioni Quindi se io facessi così Dove ricaricarmi Perfetto Ma qui va bene E siamo a posto 200 Vento passa Aspettate Vai 21 Sempre meglio di Togliti dal cazzo Dio santo Che maroni Andiamo un po' Bene così Ok Muoversi Dimmi dove ti prego Che se no non capisco Di qua Da questa parte Ok Oddio Con la grazia Sì in tutto Mamma mia Lo same non finisce mai Sì E quell'eruzione sta peggiorando Dovremmo aspettare Non possiamo Non sappiamo Non sappiamo Quanto sarà lunga La tempesta Fantastico Non vedo l'ora di saperlo Oh Checkpoint è una volta Tanto che mi posso salvare Bene ragazzi Io direi che per questo video è tutto Io vi invito Come al solito A lasciare un like E un commento Se vi piace la serie E fammi sapere nei commenti Cosa ne pensate E per adesso Vi do Semplicemente Su Toshiba Ciao ciao